Ciccio Visaggio, uno dei giocatori di punta dell'Allianz UDAS tra poche ore un derby molto importante tra virgolette in trasferta contro l'Olimpica e tra l'altro da ex proprio dell'Olimpica Sì, sì, io penso che sono il giocatore che ha giocato più derby qua perché ho giocato in tutte e due le compagini ora sono tornato all'UDAS dopo qualche anno e ovviamente il mio cuore batte sempre per la maglia che indosso ovunque giochi quindi personalmente a livello di squadra dobbiamo lottare come qualsiasi altra partita essere uniti e anche per la sconfitta di Nardò avere una reazione e poter vincere Tra l'altro Ciccio sappiamo che avete disputato contro Nardò proprio un bellissimo primo tempo per voi calare nella ripresa Sì, siamo calati un po' quindi questa settimana abbiamo curato anche questo fatto qua del calo speriamo di non averlo per poter vincere la partita perché come hai detto tu se giochiamo come il primo quarto di Nardò è un po' dura a batterci Senti Ciccio, tra l'altro i cugini si sono rinforzati con un ultimo acquisto Ciccio Teovilo che sicuramente potrebbe crearvi più di un problema Sì, sicuramente sì giocatore di grande esperienza bravo tecnicamente, fisicamente, molto dotato però come ti ho detto noi come squadra giochiamo sempre penso come loro per vincere e daremo il massimo grazie in buca l'ubo grazie Ciccio